Buonasera a tutti, benvenuti a questo sesto appuntamento del Festival Culturale Liberevento qua ad Iglesias per questa dodicesima edizione, anche se in realtà il Festival qua a Iglesias ha trovato casa da circa quattro anni, però a vedere la vostra partecipazione ci sembra di essere sempre stati qua, quindi vi ringrazio e vi ringraziamo per la vostra numerosa presenza qua oggi. Come sapete l'ospite di questa sera è un ospite molto speciale, sicuramente è stato uno dei punti fermi della programmazione di quest'anno perché già da gennaio ci scambiavamo mail con il professor Crepe per concordare le date per la partecipazione al Festival, è la seconda volta che il professor Crepe è qui da noi, la prima volta è venuto nel 2021, ma come ci possiamo ricordare non era un periodo molto semplice, quindi la presenza anche degli spettatori era notevolmente ridotta e contingentata. Quest'anno abbiamo voluto un po' riscattarci, mi pare che ci siamo riusciti, quindi grazie davvero, grazie anche per la pazienza che avete avuto all'ingresso. Sapevamo che sareste stati tanti, però insomma avete un po' superato le aspettative, quindi veramente vi ringrazio per la fila che avete fatto abbastanza lunga, se avessimo potuto fare di meglio vi assicuro che l'avremmo fatto, quindi grazie davvero. Intanto mi presento, per chi non mi conosce io sono Maura Porru e mi occupo insieme al mio amico giornalista Claudio Moica che oggi si è defilato della programmazione, progettazione e organizzazione di questo festival. Ieri a Calasetta il professor Crepe che ha chiuso insomma la sezione calasettana del festival, che è la sezione storica, è stato accolto da un bagno di folla, ma appunto vedo che oggi anche qua a Iglesias non siamo stati da meno e ci siamo difesi molto bene, quindi come si dice veramente il pubblico delle grandi occasioni oggi ed è vero che è una grande occasione, una delle tante grandi occasioni che il Festival Libero Evento cerca di proporre un po' tutti gli anni ed è una di quelle occasioni che è possibile non solo grazie al lavoro mio, di Claudio, di tutto lo staff che avete visto un po' disperato oggi, ma è sicuramente un'occasione resa possibile non posso certo esimermi quest'oggi da ringraziare gli enti che finanziano questa manifestazione intanto oggi prima di tutti voglio ringraziare il comune di Iglesias che ha creduto in questo progetto e quindi in particolare voglio ringraziare il sindaco Maurusai e l'assessore alla cultura Claudia Sanna che nel 2020 ha voluto fortemente che questa manifestazione arrivasse qua ad Iglesias, ma voglio ringraziare tutta l'amministrazione perché mi piace moltissimo vedere che tutti gli amministratori partecipano a questi appuntamenti che sono diventati veramente molto molto attesi e non è banale, non è scontato, significa che c'è un apprezzamento vero e sincero. Oltre quindi al comune di Iglesias ringrazio la regione Sardegna, in particolare l'assessorato alla pubblica istruzione beni culturali in formazione spettacolo e sport, in particolare il servizio beni librari che è un fiore all'occhiello nell'assessorato perché è veramente un po' forse di Norvegia da quanto sono precisi e impeccabili. Regione Sardegna che ormai da qualche anno ha riconosciuto il festival tra la piccola elite delle grandi manifestazioni letterarie consolidate, delle cinque grandi manifestazioni letterarie consolidate dell'isola, quindi un traguardo importante. E ancora la fondazione di Sardegna che dà un aiuto fondamentale soprattutto per le tempistiche di erogazione delle risorse e gli altri dieci comuni che insieme al comune di Iglesias fanno parte del festival. Dieci comuni che naturalmente hanno contribuito al radicamento del festival nel territorio oltre che alla sua crescita. E questi comuni oggi provo a dirveli tutti, a delencarveli tutti e sono il comune di Calasetta, di Sant'Antioco, di Carbonia, di Piscinas, di Masainas, di Portoscuso, di Gonesa, di Villa Massargia, di Teulada e di Cagliari. Quindi tanti comuni in un territorio veramente molto vasto. Ma oggi in particolare voglio fare un ultimo ringraziamento un po' speciale ed è rivolto all'unica azienda di questo territorio che sembra abbia a cuore la cultura, cioè l'unica che è l'alice SRL. È vero che il nostro territorio non è un territorio particolarmente fiorente, è vero che tutti ne parliamo solo per i suoi aspetti negativi, però è vero anche che ci sono delle altre aziende che hanno, come dire, mostrato un disinteresse evidente verso la cultura e quindi a maggior ragione io vorrei che dedicasse un applauso a questa azienda che ormai in maniera quasi continuativa e mi auguro anche nel futuro crede nella cultura, perché cultura non significa solo potervi offrire un momento di approfondimento, di riflessione qua oggi, significa anche contribuire alla crescita socioculturale di un territorio, significa anche contribuire alla crescita economica, perché tutti i ragazzi che vedete qua non sono volontari, sono tutte persone che vengono retribuite regolarmente, quindi come dire, c'è un risvolto. Chi aveva detto che con la cultura non si mangia, se è vero che l'aveva detto il ministro Tremonti, evidentemente si sbagliava e credo che noi ne siamo un po' la prova. Chiusa questa polemica voglio fare giusto gli ultimi due passaggi, forse molti di voi all'ingresso non hanno avuto il Depliant col codice QR, però per ovvie ragioni logistiche, però chi lo ha ricevuto magari si ha la bontà di compilare il questionario che serve soltanto per capire il gradimento delle nostre proposte. Insomma ci farebbe un grande favore. Chiudo, prima di chiamare il professor Crepe, ricordandovi che la libreria Mondadori di Iglesias ha i libri del professor Crepe a disposizione e vi consiglio vivamente, se siete interessati, di acquistarlo fin da adesso, perché dopo sarà abbastanza complicato riuscire a raggiungere il punto vendita e ad arrivare fino a qua per il firmacopie, appunto, che si svolgerà qua sul palco. Quindi credo di aver detto più o meno tutto, quindi chiamo sul palco il nostro ospite, il professor Crepe, che presenterà il suo ultimo libro, Prendetevi la luna, e a presentare con lui veramente un fiore all'occhiello del giornalismo isolano, di cui ci pregiamo sempre, è Vito Biolchini. Buona serata. Buonasera a tutti. Ho sempre sognato ad essere Alba Parietti, in queste sedie. Se la ricorda, professore? E chi se la scorda? Ieri eravamo a Calasetta e ha detto una cosa che mi ha colpito molto, perché penso che sia una frase che sintetizzi uno degli aspetti più importanti di questo libro, Prendetevi la luna, un dialogo tra generazioni. Lei ha detto ieri, la mia generazione ha abbattuto l'autoritarismo dei padri e oggi i padri sono schiavi dei figli. Ma guardi, prima, venendo qua, siamo entrati nel Duomo, chiesa splendida fra l'altro, è venuta una signora che aveva i bambini, una mamma credo di un bambino che stavano provando un coro, è venuta a salutarmi e mi ha detto con molto orgoglio guardi che il mio figlio è stato bocciato. Io mi ho fatto i complimenti perché è una cosa così rara, è come trovare un corallo ancora integro. Questo messaggio che cerco di diffondere, non perché io abbia nessuna carica per farlo, però ci credo, cioè l'idea che i ragazzi e le ragazze facciano fatica e imparino che nella vita bisogna anche fare fatica. Anch'io la faccio venire qua, potrei stare sdraiato su un divano e nessuno mi direbbe niente, ho anche forse l'età per stare sdraiato. Però in realtà giro di più di quanto avessi fatto a 30 anni, che giravo già molto. Perché non è fatica reale in realtà, no? Recentemente mi è capitato di, non dico i nomi perché sono due nomi importanti, sono due musicisti di età molto diversa tra di loro e ne eravamo in tre a parlare. A un certo punto il più giovane ha detto a quello un po' meno giovane, a te chi te lo fa fare? E quello meno giovane ha detto a me, e a te chi te lo fa fare? E io ho detto al giovane, e a te chi te lo fa fare? Alla fine dicevamo tutti e tre la stessa cosa, perché in realtà, pur con età diversa, ci chiedevamo chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare a cercare di fare le cose bene? Nessuno di noi rimane nella storia, però dobbiamo fare le cose bene, dobbiamo fare le cose con quell'amore, con quella passione, anche con quella piccola ossessione che ci vuole a volere scrivere un libro, è un'ossessione grave. Parlare è un'altra grande ossessione, perché poi io non vorrei dire le cose che ho detto ieri sera, non vorrei neanche ridirle tra qualche sera da qualche altra parte, perché se no diventa un'altra cosa, diventa un concertino di Natale. Ma lei a scuola come andava? Ma malino, devo dire, non sono mai riuscito ad essere bocciato, questa è una cosa che, una volta mi hanno dato tre materie, all'epoca si diceva a ottobre, più una quarta a scelta mia, perché tre secondo la maggioranza dei miei insegnanti erano poche, c'era l'imbarazzo della scelta perché era veramente un cialtrone, insomma in qualche modo, un cialtrone però simpatico, credo, perché alla fine non venivo trattato come altri cialtroni che facevano i bulli, io non sono mai stato un bullo, e quindi forse questa mia vena di gentile cialtroneria, chiamiamola così, mi ha un po' salvato dalla pena capitale, che però avveniva a casa, perché c'erano due tribunali, c'era quello della scuola che aveva un valore, ma non così definitivo, c'era poi quello di casa che pur anche lì regnando una certa gentilezza, io non sono mai stato percosso da mia madre o da mio padre, però poi mio padre faceva il giudice e mia mamma faceva il boia, funzionava un po' così, cioè mio padre diceva questo qui, perché quando io entravo nel novelo della mia cialtroneria, dove sguazzavo benissimo, perdevo il nome proprio, cioè io non mi chiamavo più Paolo, mi chiamavo quello lì, cioè mio padre diceva quello lì, e ovviamente ero io, perché mio fratello era molto più diligente di me, e quello lì non esce tipo per tre settimane, e mia mamma mi diceva, ho sepputo che non esci per quattro, perché mia mamma aveva questa idea molto generosa di allargare la pena capitale, capito, in modo che anche gli ultimi grilli che mi potevano passare per la testa, no, questo lo dico, perché le regole, cioè perché l'autorevolezza, cioè l'amministrazione delle regole, non è necessariamente burbara, non ha bisogno della cinta, dei pantaloni, delle bacchettate, pur essendo io cresciuto in un'epoca del nostro Paese, in cui la pedagogia era molto severa, io mi ricordo, infatti lì è stato un problema per me anche nel rapporto con la religione, che ho frequentato due luoghi amministrati dalle suore, dove mi facevano stare inginocchiato sulle noccioline, anche lì per via del... ne avevo fatto qualcuno, quindi la pena era stare inginocchiato, ovviamente all'epoca c'erano i pantaloni corti, quindi insomma non era proprio una cosa simpatica, diciamoci così, e ho capito che poi quella cosa lì non funzionava, infatti non ha mai funzionato con me, ma credo anche con altri cialtroni come me. Adesso funziona il TAR, perché i genitori si rivolgono al TAR. Sì, sì, certo, certo, facciamo un sacco di avvocati, noi facciamo girare un'economia interessante, pur di amministrare questo condono educativo, per cui se sei uno che non ha fatto niente, c'è stato il caso proprio quest'anno, adesso un mese e mezzo fa, in cui una ragazza non era stata mandata a messa all'esame di maturità in quanto insufficiente in cinque materie, ha urgentemente il padre, genio, un genio assoluto, ha il ricorso al TAR, questa è stata ammessa alla maturità ed è stata bocciata. quindi forse bisogna bocciarla subito, non capisco questa specie di riflesso gastrico, io penso che per esempio in Svezia c'è una sorta di regolamento scolastico che fa sì che i genitori non siano ammessi a scuola, io lo trovo molto interessante, cioè proprio quasi proibito, cioè lei ha un figlio e non può andare a scuola, lo aspetta fuori, però non può andare a conferire, l'idea dell'educazione è una cosa che riguarda i ragazzi e le ragazze, perché deve riguardare noi? Cioè noi per altre cose, ma per quello che fai a scuola ci deve essere un'assunzione di responsabilità, ci deve essere un tuo inizio di vita che devi capire essere complicato, ma anche simpatico, io ho passato molto tempo fuori dalla classe, perché mi cacciavano fuori dalla classe, quindi ho abitato per molte ore nei corridoi, era il mio luogo, è lì che ho conosciuto i bidelli, che sono figure fondamentali, ce n'era uno che faceva contrabbando divino e aveva simpatia per me, perché forse sperava che io crescessi furfante come lui, non lo so, però instaurava una certa umanità così popolare, diciamo, che mi era simpatico, poi lì ho capito che da fuori da fuori si può vedere meglio dentro, cioè che quella specie di pena cui io dovevo sottomettermi di uscire dalla classe al di là della vergogna che provavo all'inizio, poi è diventato un mestiere, quindi uscire dalla classe e guardare la classe non era male, perché capivi delle cose e lì forse c'è stato un eccesso in qualche modo, perché ricordo in particolare una professoressa di italiano che a me era veramente molto antipatica e io credo di essere stato molto antipatico a lei, insomma il rapporto era pessimo e a un certo punto mi disse che voleva parlare con i miei genitori, io cercai di convincerla che non era il caso, mi sono inventato delle cose ma non sono andate bene, c'è mio padre che lavorava che era vero mia mamma che lavorava e non era vero nel senso che faceva la casalinga e insomma una cosa per l'altra alla fine mia mamma è andata la sera quando mio padre tornava ho visto che confabulavo mi sono messo in un posto nella casa dove potevo sentire questa cosa che ovviamente riguardava me ed era veramente una cosa terrificante il resoconto mio padre mi ricordo era rimasto muto per molti minuti c'era incredulo e mi ricordo il finale che mia mamma ha detto a mio papà la sentenza sì una sorta di sì poi sai che cosa ha detto e mio padre ha detto ancora dice sì e cosa ha detto ancora che è un visionario io quando ho sentito questo ho capito che essere visionari poteva essere una patologia terribile ho detto io adesso come si fa a guarire questa cosa qua è la fine ecco passati molti molti decenni devo dire che mi fa molto piacere che quella bisbetica professoressa mi abbia detto che era un visionario perché lei voleva offendermi e invece non sa che regalo che mi ha fatto perché effettivamente sono un visionario avrebbe potuto dire che era un lanzichenecco potevo dire che era un lanzichenecco però questo non avrebbe avuto meno effetto su di me perché gli lanzichenecchi mi hanno sempre dato un'idea anche di una certa sporcizia oltre che di vandalismo mentre il visionario nella vita ho capito che avendone incontrati alcuni che non era male cioè avevi una visione cioè avevi potevi in qualche modo nutrirti di un'utopia cioè non ti stancavi delle cose di tutti i giorni proprio perché avevi un orizzonte che andava oltre allora capivi che insomma il nostro compito qui sulla terra è di essere Ulisse uomini e donne ovviamente e Ulisse è una figura formidabile di chi non si rassegna di chi osa ciò che è che forse è anche pericoloso oggi chissà cosa farebbe Ulisse forse cederebbe alle sirene si farebbe fare un selfie prima di di Gibilterra si sarebbe fatto una birretta ci avrebbero fatto un real e poi non sarebbe andato oltre è meno male che non c'erano i social perché lui è andato oltre ci ha insegnato che dovevamo andare oltre perché si deve andare sempre oltre perché non c'è niente di buono in quel che c'è ma c'è sempre qualcosa di ottimo in ciò che speriamo che sogniamo che vogliamo che ancora non si è rialzato cioè la tua identità è in ciò che farai e in ciò che lascerai non in ciò che sei ma lei come ha gestito la frustrazione del fallimento benché mai bocciato sì no ma io ho fallito diverse volte e lì ho anche sofferto per i fallimenti in tutti i campi ovviamente per esempio quando avevo 18-19 anni l'ultimo anno del liceo io ero stato bruscamente oserei dire disgustosamente lasciato da una ragazza per me era la fine del mondo cioè era la fine del mondo nel senso che era meravigliosa lei ma era anche la fine del mondo dove stavo andando io cioè nel senso che pensavo che era finita lì la vita e credo di essere stato così rompiscatole a casa penso che mia madre che a un certo punto lei mi ha detto guarda che stasera vai a a prendere una pizza con tuo padre cosa che non era mai successa nel senso che mio padre veniva a cena con tutti non era mai successo un tet a tet e pensavo che non dovesse mai succedere una cosa del genere perché solo e quindi poi l'idea stessa di parlare di una cosa inutile perché ormai era la mia morte era vicina e quindi pensavo perché io devo andare a parlare con mio padre di questa cosa e ricordo anche dove andammo a mangiarsi questa pizza quando arrivammo e ci sedemmo ordinata la pizza io aspettavo da un secondo all'altro la domanda fatidica e invece lui non la fece e lui raccontò di quando da giovane era stato lasciato da una ragazza e lì ho capito che per me mio padre era una specie di di Don Quixote un uomo straordinario quindi non potevo pensare che ci potesse essere una donna sulla faccia della terra che che la potesse lasciare per me era impossibile ma come si è permessa questa qua una cosa bello come era intelligente come era impossibile e allora lì che ti viene l'idea beh insomma se anche lui è caduto da cavallo e si è tirato su forse lo posso fare anch'io ecco la grande la grande lezione di non parlare di te del tuo egocentrismo addolorato di queste cose qua ma dire questa è la vita giovanotto questa è solo la prima di una lunga serie e allora capisci che ci sono delle sconfitte molto fortunate così come ci sono delle vittorie molto pericolose nella vita e questa è stata una di quelle nel senso che impari intanto a scegliere bene le tue compagnie assumerti la responsabilità sapere che sbagliare è la cosa più ovvia che si possa che possa accadere visto che se fai qualcosa sbagli e questo questo è contenuto in una straordinaria lettera di Per Paolo Pasolini che lasciò al convento dei frati minori ad Assisi quando andò molti molti anni alcuni anni prima della sua morte e scrisse questa lettera al priore che si chiamava frate Rossi che era stato un grande intellettuale ed escrisse così la sua vita dopo aver letto per la prima volta nella sua vita il Vangelo secondo Matteo da cui poi trarrà noto film lui disse la vita essere disarcionato mille volte e cadi nella polvere l'importante è rimanere attaccato alle staffe da lì rimonterai questa visione molto drammatica della vita in realtà non era così pessimistica perché c'era questo secondo tempo dell'essere cucciuti nel volere rimanere attaccato ai finimenti di quel cavallo e attraverso uno sforzo sicuramente ancora maggiore riesci a risalire e questo è il bello della vita ecco perché trovo un po' un po' anche banale questa cosa che facciamo noi adulti con i giovani a dargli sempre ragione non so come se l'educazione fosse pettinare per il verso del pelo dei nostri figli non so non credo che la vita sia nata in lettatura per cani lei parla di adulti infantilizzati sì sì terribile questo è uno degli ultimi mostruosità ci sono dei genitori che vogliono essere più giovani dei loro figli è una cosa inimmaginabile cioè spesso accade che arrivano nel mio studio padri e madri con i figli e fai fatica a capire chi è il padre chi è la madre chi è il figlio o la figlia cioè hanno i jeans tagliati uno dice ma no a me fa è un dramma ne stiamo parlando però facciamoci anche una risatina sopra perché francamente io lo trovo anche molto comico cioè il papà Peter Pan a me fa ridere cioè cos'è il mito del padre cos'è andare con l'Harley Davidson davanti al liceo della figlia per vedere se ci sono delle nuove compagne di lei cioè qual è lo scopo del maschile questo qui cioè io non so io con mio padre non ho mai non ho avuto nessuna competizione da nessun punto di vista ma perché non mi sarei mai mai pensato che mio padre potesse non lo so guardare le mie amiche con l'occhio atturbato dagli ormoni non faceva un altro mestiere mio papà altre cose non eravamo sullo stesso piano l'educazione non è democratica questa è una una storpiatura che ci siamo messi in testa ma cosa c'entra cosa vuol dire cioè come se avessimo tutti lo stesso voto cioè non è un'opinione quello che dice un padre una madre un nonno ma perché dovrebbe essere un'opinione anzi il bello è che è così punto lo fai perché perché è così perché se no come fai a crescere come si fa a crescere con i sì questa roba piatta questa livella che abbiamo assunto no solo che Totò parlava della livella per la morte noi invece abbiamo pensato che la livella sia la vita cioè noi abbiamo eletto a nostro utopia il 6 meno meno ma perché ma la vita è sturo mondrang 8 e 4 no e il bello è anche erotico tutto questo io trovo che prendere 4 3 2 1 sia molto sexy io pensavo che così dovesse funzionare cioè non potendo no arrivare agli 8 perché non studiavo allora mi son detto ma almeno al 2 ci arriverò no cioè ci vuole del talento nello scendere così come nel salire perché uno passa e dice guarda lui no ho preso uno in matematica io ho preso uno in matematica mi ricordo mio papà quando andai a dirglielo perché c'era un professore di matematica che dava i compiti partendo dai migliori e arrivando agli inferi io ovviamente non mi ero accorto che eravamo rimasti in quattro senza il compito e lui fece il battutone mi diceva adesso abbiamo un bel poker d'assi io ho detto chissà cosa cosa c'è da ridere e erano 4 uno io e tre disgraziati come me solo che loro lo so con chi vivessero io vivevo in un luogo dove tornava anche mio papà e si chiamava famiglia mi ricordo che lui si sedette su questa bella poltrona che aveva e io gli avevo dato la ferale notizia e lui ha detto ma senti 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 uno in matematica e lui ha detto papà così è andata no dico perché fa lui i quattro li danno a tanti vero e dico beh sì effettivamente è più frequente bene quindi hai fatto una cosa eroica dico adesso che ci me la fai vedere così effettivamente non è stato facile ecco sì sono d'accordo poi si alzò mi strinse la mano cerca di tirarlo su quell'uno prima di giugno perché sennò quest'estate sarà il tuo Vietnam capisci? capisci bene? sì? ciao caro ciao vedete sono passati dei molti decenni e ancora questa presa per i fondelli me la ricordo perché il grande maestro non è quello che ti viene addosso è quello che ti guarda sornione fa la battutona sia il prof che il papà tutti e due avevano fatto la battuta sulla mia celtroneria era evidente che ero io il celtrone non c'era il minimo dubbio ed era evidente che l'unico modo per farlo capire è dire tutti sanno prendere quattro effettivamente sei un geniaccio ed è lì che ti senti così malomodo che nasce qualche cosa dentro di te ti racconto un'altra cosa di tanti anni dopo quando io ero un giovane psichiatra e giravo il mondo ho cominciato molto presto ad un certo punto sono andato a finire a Toronto a Toronto in un posto molto noto un posto in qualche modo mitico per chi fa la mia professione che si chiama Clark Institute prestigioso ci sarebbe stata tanta gente ero molto emozionato ero molto giovane non sapevo beh insomma tanto emozionato tanto in ansia che sono andato addirittura un po' prima a quell'appuntamento non c'era nessuno c'era un signore che metteva a posto non so quale cosa e avevo capito parlandoci un po' che era un italiano seconda generazione c'è una grande comunità a Toronto di italiani eccetera eccetera arriva il grande Dean il grande rettore dell'università ci sente parlare in italiano poi gli americani i nord americani hanno un modo che è ancora più pronunciato degli inglesi quando devono parlare in pubblico iniziano sempre con una battuta solo che non sempre le battute riescono come i timidi che raccontano le barzellette e lui però fece il battutone anche lì e disse signore signore io ho un grande piacere di avere qui a questo giovane psichiatra che per la prima volta in questo istituto in questa sala ci sono due italiani di cui uno è questo qui che non sono qua per lavare i vetri e io mi ricordo come se fosse ieri lo guardai e ho pensato questa me la paga prima o poi capiterà e ti viene dentro quella sana rabbia di dire questo fa così perché non mi conosce questo fa così perché io sono giovane questo fa così perché io sono forse arrivato troppo presto qui e forse ha ragione lui ma io gli dimostrerò che io posso stare qui a testa alta e anche molto altrove e poi devo dire che nella vita così è capitato che quel signore poi si scusò di quella maldestra battuta però fu utile cioè non perché io sia per l'umiliazione questa è stata un'umiliazione in realtà voleva essere un'umiliazione ma non con me perché credo che avere degli anticorpi no contro l'invidia contro la stupidità beh insomma non è non è male perché poi costruisci qualche cosa che non è necessariamente una corazza ma è un modo come posso dire felino di aspettare di aspettare che le cose vadano avanti prima o poi prima o poi ti becco non ti preoccupare questo implica un tuo sforzo perché se tu poi vuoi arrivare a spiegare a quel signore no che non sei uno sprovveduto e che non eri lì per caso beh ci vuole molto impegno molta fatica molta molto sudore e non bisogna vergognarci del sudore che a volte ci contraddistingue la nostra opera perché la nostra opera è buona se sudi se te la regalano se te la compri all'esse lunga non vale niente vorrei tornare sull'uno facendo un accostamento che può sembrare difficile però mi ha ricordato una vicenda recente dei giovani universitari che di fronte a questa competizione che loro ritengono molto pronunciata oggi nell'università italiana chiedono un supporto psicologico nelle facoltà come vede questa loro richiesta e come come vede questo loro grido di allarme di una università che a loro avviso diventa troppo competitiva beh loro dicono almeno questa ragazza di cui poi ho parlato anche nel libro questa ragazza ed altre la prima che ha fatto un discorso che poi è stato riportato è una ragazza che era all'epoca l'anno scorso iscritta al primo anno nella facoltà di medicina a Padova che poi è la facoltà che io ho fatto senza psicodrammi e senza psicoterapie e semplicemente ho fatto perché ho studiato non era un genio non lo sono mai stato neanche quelli che hanno studiato con me eravamo dei ragazzi delle ragazze che si sono molto divertiti abbiamo fatto medicina in sei anni perché così era previsto non vedo perché mettercene 12 o 24 o 36 in realtà questa ragazza ha secondo me maldestramente unito al problema competitivo il problema della meritocrazia come se la meritocrazia fosse una parte della competizione allora la competizione a me non me la frega niente io non sono in competizione non mi interessa non sono mai stato in competizione con chi quelli più bravi di me sono più bravi di me io perché dovrei essere competitivo perché non posso altro che ammirare le persone più brave di me ce ne sono tantissime ne ho conosciute tantissime e mi sono state molto utili quelle che non sono brave quanto lo sono io non so cosa farci non mi interessa per un altro motivo ma io non capisco veramente non capisco questa sorta di attacco viscerale alla meritocrazia io davvero faccio fatica perché se io vado a sentire un concerto di un musicista immagino che quel musicista non sia bravo ma sia forse bravissimo e non capisco perché questo non debba essere riconosciuto come un merito prima parlavamo di musica con il nostro amico musicista di voi non voglio naturalmente fare nessun discorso fuori fuori del campo di cui io mi occupo però ho conosciuto grandi musicisti Salvatore Accardo per esempio che adesso non so quanti anni abbia 85 86 perché io non devo pensare che quell'uomo che ogni giorno si prepara fa rifà eppure avrebbe potuto andare come dire tranquillo dopo 60 anni e più di professione perché non deve essere un merito ecco questo appiattimento mi sconvolge cioè noi siamo qui sulla terra perché ci sono state uomini e donne bravi e se lo sono meritato quello che hanno fatto perché tutto questo deve essere diventato una sorta di sospetto generale perché la meritocrazia diventa l'anticamera di chissà quale raccomandazione io non sono mai stato raccomandato a nessuno io non credo che Maura abbia ricevuto delle mail di pressione chiamate crepè perché nel 2024 potrebbe non esserci più non credo che funzioni così sentiamo vediamo un po' speriamo cioè non è che scrivo un libro per la Mondadori e mi aspetto che non lo leggano nemmeno e lo pubblichino direttamente no c'è un travaglio si chiama così non sto parlando del giornalista sto parlando di una parte della nostra vita che è meravigliosa perché è travagliata perché devi fare fatica a pensare che quello che stai facendo sia migliore di ciò che hai fatto ma è così complicato prova a darle una risposta sulla meritocrazia l'obiezione che si fa è che è soltanto un modo per cristallizzare delle disuguaglianze sociali perché ci sono dei giovani dei ragazzi che partono da posizioni privilegiate e quindi ciò che loro raggiungono in realtà è frutto di ciò che hanno alle spalle di una famiglia di risorse e quindi è una finta meritocrazia in realtà sono rendite di posizione non lo so boh io non ho seguito questo quindi non non posso io avrei potuto avrei potuto perché mio padre era nella posizione di potermi garantire una vita molto buona molto prestigiosa fin dalla mia giovanissima età io sono andato via io l'ho ringraziato ma non ho seguito nulla di quello che avrei potuto accettare da lui me l'avrebbe offerto con grande generosità ma non avrei mai potuto pensarlo per un secondo l'idea di dover dire in qualche momento della mia vita quello che ho fatto quello che ho non lo devo alla cosa agli sforzi che io ho fatto ma all'aiutino che mi è venuto da Tizio da Caio da Semprone ma per l'amore di Dio io penso che le raccomandazioni si fanno per i mediocri ma uno bravo perché deve essere raccomandato se è bravo è bravo no? non si farà cosa dobbiamo dire? che non avrà ostacoli ma è sicuro ma certo ma è logico io ho perso un sacco di anche qui a Cagliari ho fatto un concorso universitario mi ha fregato perché ha vinto uno che era il figlio di un cattedratico di Cagliari ma io ringrazio ancora l'Onnipotente se esiste tutti i santi eccetera eccetera per avermi fatto perdere quel concorso perché ma sarei diventato un burocrate non sarei stato libero avrei dovuto ringraziare ogni volta il rettore il presso della facoltà chi mi ha dato quella catena perché mi avrebbe detto ricordati che quella volta lì ho fatto io ho chiuso io un occhio anche due anche tre quindi no? bacia l'anello io non bacio nessun anello non faccio baciare nessun anello ne ho due e quindi stiamo tranquilli io penso di aver vissuto molto bene da persona libera totalmente libera io anzi lo trovo così divertente essere liberi perché uno può anche dire dei no a delle cose che magari qualcun altro penserebbe che sono dei colpi di fortuna non so io chi sono stati i suoi maestri di libertà i miei nonni sicuramente miei nonni sono stati persone libere anche in un momento in cui l'Italia non era un paese libera mio nonno paterno melomane pittore grande grande artista ricordo che mi hanno raccontato di lui persona molto sobria non parlava mai neanche di se stesso mi hanno detto mi lo disse mio padre e l'unica cosa di cui mi ha raccontato un po' che quando è tornato a Toscanini lui andò al concerto svenne per me fu vedere quest'uomo che aveva sofferto per la sua libertà per non avere detto di sì a certi compromessi vedeva in quest'uomo tanto straordinario musicista ma un uomo libero che tornava in Italia finalmente liberata e lui non poteva che svenire io l'ho trovato fantastico è la libertà dell'arte io ricordo una cosa simile con un mio amico pittore che è stato un grande pittore molto più vecchio di me io all'epoca vivevo ad Arezzo e avevo lavoravo al manicomio e avevo una galleria d'arte per tirarmi su non mi facevo gli spritz organizzavo delle mostre era una bella galleria e un giorno invitai questo signore che era molto noto all'epoca della generazione diciamo più o meno di mio padre e questo signore arrivò con una clausola dice io vengo a fare una personale da te però tu mi devi portare a Sansepolcro a vedere il Cristo di Piero della Francesca e io ho detto ma è tutto qua tutto qua io avevo una Renault R4 questo quello con le marce che si facevano così non era proprio faceva venire anche un certo mal di mare non era proprio una cosa elegante in più questo signore aveva un suo modo di vivere chiamiamolo così che beveva una quantità di vino inennarrabile mi ricordo che finiva la sera con l'ultimo bicchiere e buttava dentro l'aspirina quella effervescente e gli dicevo perché lo fai? lui diceva per purificarmi io lo trovavo straordinario questa cosa bevi come un dannato e poi metti l'aspirina e ti purifichi infatti è morto anziano quindi forse funzionava questa cosa allora quando io finalmente in un giorno di pioggia sopportando questo olezzo di alcol capito è come andare con un briacone cioè il basco in testa come i veri artisti come Zavattini queste persone qua e da adesso fino a Sansepolcro c'era una strada anche fatalmente tortuosa arrivai io ero giovane forte e quindi quattro balzi nella pinacoteca dove c'è il Cristo risorto di Piero io fui già davanti a Piero mentre lui barcollava dietro quindi non mi ero accorto di dove diavolo fosse a un certo punto sentivo un tonfo in realtà una bestemmia è un tonfo mi sono voltato era lui che era svenuto io l'ho trovato di una delicatezza straordinaria perché ho detto quest'uomo per tutta la sua vita era già anziano ha visto questo Cristo con questo panneggio rosa c'è una roba pazzesca eh solo in una fotografia anche mal scattata finalmente lo vede no? vede il senso della sua stessa arte del principio della sua arte e come fai a reggere? ecco il nonno che sviene con Padanini pur essendo come avrebbe detto Lucio Dalla un vero uomo però no? però svieni però svieni quell'altro svenuto davanti a Piero perché dobbiamo svenire nella vita dobbiamo essere più fragili dei nostri sentimenti perché sennò cavolo stiamo qua a fare l'uomo che non deve chiedere mai ma questo è nauseamondo fragilità e fragilità anche le donne che non devono chiedere mai i reparti di neuropsichiatria infantile oggi sono in crisi in tutta Italia perché hanno picchi di ricoveri ragazzi in crisi cosa sta succedendo? che cos'è? il covid il digitale che entra nelle vite stravolgendole cosa sta succedendo a questi ragazzi? sta succedendo l'onda lunga della maleducazione cioè la maleducazione non il senso letterale maleducazione cioè la cattiva educazione quella che una grande pedagogista chiamava la schwarz pedagogia cioè la pedagogia nera chiamava Alice Miller è che noi non pensiamo più che la crescita debba essere individuale fondata sulla autostima sulla autonomia e sulla creatività non pensiamo più che questo sia quello che noi facciamo da molti 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 anni è l'esatto contrario è proteggere i ragazzini in tutti i modi possibili immaginabili non avere fiducia in loro una mamma o un papà che fa lo zainetto a un figlio è chiaro cosa sta dicendo tu piccolo bambino bambina che sia sei un imbecille totale non sai farti neanche lo zainetto se non ci fosse tuo padre tua madre salvifici tu saresti morto tra enormi dolori quindi io ti salvo e ti faccio lo zainetto e quindi tu crescerai vivo ma idiota questo è perché è veramente che quello che tu pensi di loro poi è una profezia che si autoavvera tu pensi che siano talmente dei cretini che poi vivono da cretini perché perché non sanno cosa fare di sé ma perché un ragazzino deve essere cioè esiste la bicicletta esiste la bicicletta che è una fabbrica di ginocchia a brase la bicicletta è stata inventata per sbucciarci le ginocchia tu cadi ding sanguina ding ti metti il cerottino te lo metti te io quando lavoravo in Danimarca il mio compagno di di lavoro che era uno psicologo danese molto simpatico aveva dei figli a una scuola elementare e lui insisteva che io andassi a vedere questa scuola andassi non passate tanti anni alla fine andai a vederla convinto che dovesse essere un posto per me utile per capire delle cose effettivamente era una bella scuola era una scuola elementare molto bella nel senso che le persone che ci lavoravano sorridevano questa è una scuola bella non una scuola dove la gente non vede l'ora di andare in pensione è un'altra cosa una persona che va alla mattina che dice stanotte mi sono inventato una roba pazzesca per giocare con i bambini e non l'ho mai fatto e sperimentiamo questo gioco incredibile che mi è venuto stanotte alle tre eh questa è una buona scuola perché non vedi l'ora di metterlo lì questa si chiama passione e la passione si vede è contaminante i bambini si nutrono di quella passione come fai a nutrirti di cosa con una che sbadiglia che guarda l'orologio che gioca col telefonino mentre tu giochi ma che mondo è e non è finita questa insegnante che era stata lì chiamata mi porta una ragazza molto carina molto simpatica mi porta a vedere tutto quello che succede a un certo punto arriviamo nel locale delle cucine locale molto bello tutto pulito tutto eccetera non c'era nessuno chiedo ma scusi ma abbia pazienza ma voi non non funzionate non c'è la non funziona no no tutte le scuole risposte tutte le scuole di Danimarca sono a tempo pieno lo ripeto tutte le scuole di Danimarca sono a tempo pieno perché noi no noi che saremo la settima potenza del mondo no che non si capisce per quale motivo siamo la settima potenza del mondo perché dal punto di vista pedagogico siamo la cinquecentesima potenza del mondo perché un bambino un preadolescente un adolescente non può avere diritto a stare a scuola no deve stare a casa alle due a vedersi uomini e donne ma io non lo so ma si può fare una cosa io non ce l'ho con Maria De Filippi viva Maria per tutta la sua vita grande professionista però possiamo avere un'idea alternativa posso pensare che magari è bello fare teatro a scuola fare un corso di danza fare qualcosa anche fare niente ma stare insieme ad altri allora questa signora mi dice tutte le scuole di San Mar benissimo gli ho detto sì va bene tutte le scuole di San Mar però qua non c'è nessuno questa mi dice ma che secondo lei chi ci dovrebbe essere beh la cuoca siamo in cucina la cuoca chi è che cucina qua questa mi guarda con l'occhio stranito mi dice come chi cucina si chi cucina ma questo mi dice i bambini quindi io dico scusi sa io vengo da un paese in via di sviluppo quindi certe cose non sono semplici e non fate tanto i fenomeni perché se al 10 di settembre uno volesse mettere a Iglesias o a Cagliari o a Sassari o a Napoli o a Roma o a Milano dove diavolo volete voi una scuola dove i bambini cucinano voi non avete idea che cosa si scatena contro di voi contro il buonsenso contro l'amore per i figli noi vogliamo che i bambini siano da sempre serviti e riveriti e gli puliamo anche la bocca ma è una roba dell'altro mondo ma che ma non lo so ma arrangati no non sei non sei capace di apparecchiare una tavola ci vuole Marconi per mettere un piatto un bicchiere una forchetta ma sarà un gioco no imparare a bollire le patate è un gioco collettivo che implica il rispetto per chi per esempio le patate non le mangia e comincerai a capire che la vita ha un caledoscopio meraviglioso dove ci sono gli uni e gli altri e ognuno di noi è unico e deve essere rispettato per quello che è questo si chiama educare elevare si dice elevé in Francia ma noi no non l'abbiamo capito siamo dei trogloditi eppure abbiamo avuto Maria Montessori abbiamo avuto Don Milani abbiamo avuto Maria Montessori abbiamo messo anche sulle mille lire perché eravamo spiritosi perché poi di Maria Montessori non ce ne frega niente se tornasse oggi Maria direbbe ma che diavolo avete combinato ma siete dei pazzi con tutte queste macchine parcheggiate non avete neanche un briciolo di scuola che funziona fino alle 4 del pomeriggio ma state scherzando così direbbe Maria Montessori andrebbe in Danimarca è certo mica è scema e noi volete questo ecco allora dove nasce la fragilità perché un bambino deve cucinare perché così si chiama self confidence cioè cominci ad avere confidenza con te stesso con le tue capacità e con i tuoi limiti questo lo so fare meglio e questo un po' meno perché un bambino non deve disegnare perché perché è arrivato il digitale ma di che ma è possibile che da Cupertino California siano partiti i lanzichenecchi per distruggere la nostra civiltà la nostra civiltà si è formata con i colori con le bellezze perché colorando rispetti i colori che ci sono fuori cosa serve avere un buon mare se non lo puoi riprodurre su un pezzo di carta cosa serve guardare attraverso e vedere quanti blu e quanti verdi e quante meraviglie e quanti pesci forse buoni alcuni feroci e allora non parte lì la tua fantasia come fai a inondare quell'orto che è il tuo cervello con della buona acqua con delle buone paure e con dei buoni sogni come fai avere eliminato tutto questo con quale dignità aspettiamo una nuova generazione ecco che poi arrivano i ragazzi che non si chiamano next generation chiamano last generation non vi fa paura questo che ci siano dei ragazzi che si autoproclamano ultima generazione non vi fa paura a me sì molta perché io penso che la generazione di oggi debba insegnarci qualche cosa di prodigioso a patto che li lasciamo esprimere certo non non penso che dobbiamo dire di sì a tutto io non dico di sì ad un ragazzo ad una ragazza che butta una pappa del pomodoro sui girasoli di Van Gogh mi dispiace ma io dico questa è una porcata che fai perché quell'uomo ti ha insegnato la bellezza e tu stai imbrattandolo ci sono dei modi per dire di no che sono molto più creativi e molto meno attaccati alla visibilità dei social perché quello è nato e morto con un social e basta questi social hanno rotto le patti il digitale il digitale come puoi entrare in questo processo virtuoso di amplificazione delle intelligenze dei talenti cioè l'intelligenza umana la produzione emotiva è diventata un emoticons cioè qualcuno si dovrà chiedere ma perché io dico un neurone è rimasto perché secondo me non molto cioè vaga dall'emisfero di destra quello di sinistra poveretto è rimasto solo non so perché scusa eh ma un emoticons ma perché deve essere una cosa cioè voglio dire chiamami dimmi che non stai bene non mi mandare come stai ma dico ma io non lo so ma guarda c'è un capitolo lì che ha un titolo è RIP R-I-P perché non so chi fosse morto molto importante sui social ci fu un tripudio di commenti al al trapasso di quest'anima che non ricordo chi fosse e poi finivano tutti con RIP uno dice non l'avevo capito io sono un po' ottocentesco quindi ci ho messo un po' sarebbe riposa in pace ma perché non lo scrivi c'hai fretta dimmi dimmi che sei addolorato molto addolorato riposa in pace passiamo quei lunghi sei secondi no no tra un po' manderai un un coso un audio che sentirai così c'è della gente che gira per le strade RIP RIP è morto il nonno RIP dov'è non si sa RIP non detto RIP forse è morto ah capito nel frattempo hai attraversato la strada è arrivato un tir e anche te RIP tutti RIP ma io uno che dice e io no uno che dice uno strano io io ho scelto di lavorare nei manicomi perché ero affascinato dai matti a me i matti adesso mi dispiace perché adesso ho anche un po' freddo perché volevo mettermi dei calzini solo che mi sono accorto che avevo portato i calzini giallo e rossi e ho detto magari non va bene per questioni calcistiche e quindi però io ho tutti i calzini molto colorati perché io vengo dai colori e io penso che che la moda faccia anche un po' schifo mentre lo stile è interessante lo stile lo fai te la moda è seguire gli altri è un follower siamo tutti follower siamo diventati tutti follower di chi non si sa però siamo follower tu sei un follower c'hai 17.000 follower wow mettiti in mutande così diventano 18.000 pronti lato B quello lì è fatto lato B subito perché uno dice le mutande guarda che bello è tutto una roba che non si crede i cappuccini fotografati alle 8 di mattina con la schiumina fatta a cuore è una cosa inimmaginabile dove finì noi avevamo Caravaggio siamo approdati al cappuccino senza che qualcuno dica basta ridateci Caravaggio no ridateci la luce sulla tela perbacco basta queste schifezze da 4 soldi ma chi è che andrebbe mai a Cupertino California io adesso per l'amor di Dio non ce l'ho con l'America non ce l'ho con la California però Cupertino California io penso che sia azzardato cioè uno ha una fidanzata metti no dice amore mio ti porto quest'estate a Cupertino California lei ti lascia se è sana perché uno dice ti porto a Capri ah beh c'è un tramonto pazzesco ma Cupertino California questi grattaceloni che bevono delle ciofeche che neanche mio nonno durante la guerra beveva che non sanno niente cosa ne sanno degli gnocchi a Cupertino California non sanno niente io vorrei chiedere al signor Zuckerberg ma lei cosa mangia liofilizzati no è una roba tremenda come se uno un ragazzo che invita a cena una bella ragazza quella lì mangia sesamo con un po' di aceto di mele uno dice no se questa è la cena dopo cena è mortale io voglio una ragazza che mangi la carbonara con le mani perché quella ti fa venire in testa qualcosa del post molto complicato ma forse anche godevole o no prendiamoci la luna è la vita facciamo qualcosa di speciale una volta mia figlia mi ha detto gli ho chiesto dove andassi in vacanza mai chiederlo è un errore fatale mi dice sai perché con le mie amiche andiamo nei posti instagrammizzabili che uno lì per lì se sei distratto dice ma dove succedono delle cose terribili no no instagrammizzabili cioè nel senso che vai in un posto che è praticamente mezzo metro quadro dove ti devi fare un selfie proprio lì perché se a tre metri non va più bene devi essere proprio lì perché in quel posto lì ti fai un selfie con quel non so cosa c'avrai dietro sperando che non sia un dirupo perché tante volte poi le ritroviamo sotto a 200 metri una poltiglia dice dove è stata il tuo posto instagrammizzabile è morta è certo ha fatto un passo indietro e c'era il dirupo è un peccato perdere la gioventù così allora io penso che bisogna andare in Patagonia a 20 anni solo che quando l'ho detto in un liceo a maggio gli ho detto chi di voi va in Patagonia silenzio come no come se uno dicesse non so non so quale fosse l'orrore non sapevano neanche bene ho visto che qualcuno si era messo subito sul telefonino su google Patagonia no ristorante no no non ristorante questo forse dice una terra che si chiama Patagonia dove cavolo è questa è una cosa incredibile dunque ma cosa ci vai a fare in Patagonia no devi andare dove devi andare qua no alle Baleari dove farai le stesse cose che fai qua invece che cinque sprints te ne fai dodici ci metti anche sette otto birrette così arrivi alle cinque del mattino che vomiti sul porto questo è il mito possiamo dire no possiamo pensare che i ragazzi e le ragazze siano delle start up in cui noi adulti mettiamo energie e anche denari se c'è un progetto ma nullo progetto nullo denaro si può dire questo io ti do i soldi se mi convinci perché hai fatto una cosa anche se non la condivido vuoi andare in Olanda a iscriverti a un corso di tatuaggi ottimo quanto costa 200 euro perfetto perché se uno mi dice andiamo a cosa non so perché bisogna andare tutti nello stesso isolotto a fare le stesse cose a ripetere ma è quello che vogliamo l'intelligenza artificiale è questo è assolutamente questo è inutile che ce la raccontiamo che adesso facciamo tutte le cose anche perché tutte le pagine dei giornali che ne parlano in maniera positiva sono tutte sponsorizzate ma è chiaro che dietro l'intelligenza ci sono trilioni e trilioni di dollari sai come si chiama la chat più importante dell'intelligenza artificiale si chiama replica non vi fa orrore replica cioè la nostra vita sarebbe una replica di che cosa scusate io domani non voglio fare le cose che ho fatto oggi mi annoio di me stesso oggi ho dormito dopo pranzo domani non lo voglio fare perché non sono una replica non sono un coniglio da esperimenti ho una dignità non replico un accidenti di niente l'ho detto ieri queste cose? no bene adesso le dico e domani non le dirò perché non sono un'intelligenza artificiale sarò stupido ma naturale preferisco essere uno stupido naturale piuttosto che un'intelligenza artificiale voi no fate quello che vi pare ma scusate ma Paganini non ripeteva se Paganini avesse conosciuto l'intelligenza artificiale sarebbe diventato un pirla o no è stato il primo grande artista pop della storia della musica magnifico esemplare di diversità ha fatto innamorare mezza Europa e allora ce l'avete anche colui? io una volta ho incontrato una signora che era la numero 4 di un'azienda molto importante così mi è stato detto l'ho anche scritto eravamo in un albergo in mezzo al nulla d'inverno per di più e il capo di questa organizzazione che aveva fatto questo evento dove c'erano tutta una serie di persone che dovevano parlare io arrivo con un certo anticipo tolì anche perché c'è questa signora che sapevo che avrebbe parlato del metaverso e io ero molto incuriosito perché io non ho mai capito cosa fosse il metaverso stringi stringi e quindi ho ascoltato un'ora di questa signora e ho continuato a non capire niente del metaverso allora l'ho detto all'organizzatore dice scusi ma questa signora questa sera dove cena dice perché lo vuole sapere no perché se magari rimane qua se io potessi continuare a parlare magari imparo qualcosa su questo metaverso perché finora proprio no ma dice era già previsto lei ce n'era proprio con quella signora oh dico ma penso che bello proprio con lei sì sì allora mi presento buongiorno 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 dico scusi se sono sincero ma io questa storia qua non l'ho capita quindi vorrei capire perché io dovrei comprare il vostro prodotto perché dovrei entrare nel vostro business la cosa dice ma proprio lei perché scusi quel mestiere che fa dico scusi ma lei che ne sa risposta noi sappiamo tutto non iniziamo la cena bene dico signora a me è uno che sa tutto di me non mi è simpatico perché boh perché qualche cosa lasciata al caso è anche meglio no bene e quindi dico visto che lei sa cosa faccio io proprio lei dovrebbe comprarla questa cosa qua cioè metaverso crepè cioè il crepè punto 2 già il crepè punto 1 mi sembra eccessivo ma il crepè punto 2 andiamo molto oltre dico cara signora dice no perché lei la settimana prossima avrà una conferenza dico esattamente dove va a Milano ah perfetto e lei dove abita a Roma perfetto fa lei lei rimane a Roma manda il crepè numero 2 a Milano ah così funziona sì sì metaverso ah bellissimo questo mi interessa cioè io sto a casa comodo e c'è crepè che lavora e guadagna per me ah e scusi cosa dice il crepè punto 2 a questa conferenza e c'è quello che dice lei di solito noi abbiamo registrato tutti i suoi libri e le sue conferenze è un algoritmo tipo frullatore che ti dà la media crepè esattamente quello che io non voglio è proprio su questo che non ci capiamo io non voglio essere previsto io cerco qualche cosa ecco i matti che mi piacevano perché dicevano sempre cose strane non dicevano mai quello che io pensavo che loro avrebbero dovuto dire c'era qualche cosa di disallineato che mi ha affascinato fin dalla gioventù il disallineamento cioè tu pensi no che quello ti stia per dire una cosa o faccia un'altra cosa e invece non succede nella prima e nella seconda e questo ti affascina non ti deprime mentre adesso abbiamo capovolto il mondo e noi siamo affascinati dal fatto che è tutto prevedibile è tutto immediato è prevedibile e questo è per me umanamente osceno non ho un altro aggettivo se non dire che è osceno io voglio essere colpito alla sprovvista io non voglio leggere un libro che più o meno sa dove va a finire non voglio vedere un film che se non è così ecco là perché la serie numero 24 episodio 521 non vorrei questo cosa è rimasto della lezione di Basaglia sotto questo aspetto questo la libertà è stato un uomo che ha pensato che 120.000 italiani e italiane quanti ce n'erano negli manicomi nel nostro paese avessero diritto a essere liberi indipendentemente dal livello di sofferenza che avevano ma anche indipendentemente dal livello di discriminazione che subivano quello che mi ha insegnato quell'uomo che per me è stato un secondo padre era la potenza della sua originalità della sua capacità di stupirmi di dire una volta mi disse guarda guardandomi negli occhi lui disse a me io non sono Basagliano ho capito meraviglioso cioè io ti do un maestro da i colori principali il quadro lo fai tu questo è un grandissimo insegnamento tu hai la testa per fare non per rifare noi dobbiamo sempre fare un'opera prima domani è un'opera prima mi spiego l'amore è un'opera prima perché se no uno cosa fa applica la fidanzata precedente o il fidanzato precedente non so è anche un po' cocarino lo porti nello stesso baretto io ci sono venuto già con quattro fidanzate cosa hanno preso tutte hanno preso la coca cola senza zucchero ah benissimo coca cola zero un'ideona è una giornata che si preannuncia eccitante no? ma scusa a voi è eccitante l'idea che non sapete bene domani cioè quella no quella cosa di pensare che che la vita sia così banale e ripetitiva non so ma questo non è non ha nulla a che vedere col censo con le cose perché quello che diceva lei riguardo alla meritocrazia che sarebbe una sorta di giudizio di diritto genetico tramandato da miliardario a miliardario questo appunto vale e si e no con le ricchezze non con la genialità senza niente il figlio di Leonardo non è stato così geniale in questa corsa all'omologazione c'è una nuova forma di conformismo quella del negazionismo c'è un appiattimento oggi nel negare tutto quello che era dato prima per assodato su basi scientifiche su basi anche di buonsenso lei come si spiega questa ondata di negazionismo che si diffonde questo è già successo con la pandemia che è venuto a galla questa idea molto triste dell'uno uguale a uno è un'idiozia che può pensare solo chi è diventato ministro con tre righe sul curriculum gli altri no mi spiace ma non funziona così certo se sei un miracolato allora devi anche in qualche modo dipendere dai miracoli che hai ricevuto ma uno uguale a uno è una bestemmia contro l'umanità noi siamo unici no uno uguale a uno in che senso io sarei uguale a chi al metaverso al metaverso già quello mi sta non so mi provoca gastrite uno uguale a uno mi sembra una cosa che poi ci porta a pensare che tanto appunto la meritocrazia non c'è non ci deve essere per cui poi cosa fai ditemelo voi poi cosa fate no parliamoci adesso senza far tanto gli spiritosi io sono un medico ma sono stato anche un paziente io sono stato tre volte in coma io mi sono trovato nella situazione di dover guardare negli occhi un'altra persona che a sua volta guardava un po' me e un po' la mia tac e voi che cosa volevate da quella persona uno uguale a uno no forza dai forza ditelo uno uguale a uno quindi anche quello che passa per la strada gli dai l'attac e lui dice ma secondo me è tutto bene non vedo niente certo che non vedi niente non sei niente perché voi fate così o volete che quello davanti sia possibilmente il più bravo che c'è perché è la pelle scusate è vostra quanti fegati avete a testa qua a Iglesias eh ce ne avete tre o quattro nel freezer quindi anche se il tuo non va bene lo cambi giusto funziona così a Iglesias e se non funzionasse così non hai bisogno di un primario che non è stato messo lì da qualche partito ma è stato messo lì dalla sua bravura ma voi volete essere operati dal primo pirla che passa ma cosa stiamo dicendo siamo ipocriti siamo degli ipocriti spaventosi bugiardi poi perché quando tocca a noi andiamo in Svizzera andiamo in America andiamo da quelli bravi e quelli bravi sono quelli che hanno fatto 7.544 interventi un mio amico è uno dei più grandi neurochirurghi del mondo è uno che alle 6 di mattina è lì Cristo Santo a salvare la gente e adesso arriva un cretino patentato che mi dice vabbè dai uno uguale all'altro ma sarà per la tua vita da miserabile uno uguale all'altro non per la nostra io faccio un mestiere che quando vengono delle persone dipende la vita anche delle persone che vengono perché posso sbagliare una parola è quella depressione può diventare un tunnel da cui non si fuoriesce non stiamo scherzando ma poi scusate siete tutti qua o non ci avete un cavolo da fare stasera oppure sono bravo una delle due decidete voi se siete tutti qua ci sarà un motivo no? e forse questo motivo me lo sono meritato ma perché mi devo vergognare di essermi laureato perché devo essere andato in giro per il mondo scrivere 40 libri fare 4300 e passa conferenze come stasera provate a farle domani mattina io non sono nessuno però però il 6 meno meno no scusate ditemi che sono un cialtrone come ero al liceo preferisco ma il 6 meno meno dire quello uguale a quell'altro siamo interscambiabili ma quali siamo interscambiabili ma per carità ma la vita è un capolavoro straordinario te lo devi meritare studiate un po' e mandateli nelle facoltà difficili ma cosa dobbiamo mandare nell'università a pagamento che la fai anche a distanza che ti fai il caffè latte i biscottini e ti fai anche la lezione sei in mutande che tanto non ti ritraggono ma io dico ma per carità ma cosa dov'è il futuro ditemi dov'è il futuro di una porcata di questo genere io ho lavorato in India la mia università Chandigar funzionava come un orologio svizzero non riuscivo a capire perché così tanta attenzione quando fuori c'era gente che moriva di fame perché avevano forse sbagliato ma avevano un'idea del loro futuro sono passati tanti anni quel luogo è diventato di eccellenza un tempo da quella facoltà si laureavano e andavano a lavorare in America adesso si laureano e rimangono in India perché perché sono migliorate le condizioni grazie a tanta gente che sa fare quello per cui è pagata perché tutto questo deve suonare sinistro non so io mi aspetto da un avvocato che faccia l'avvocato da un magistrato che faccia un magistrato da un politico che faccia politico io non so cosa voglio dire perché secondo me la politica non è un mestiere lo diceva Calamandreno lo dico io siamo arrivati quasi alla fine abbiamo parlato di tanti maestri ieri lei in chiusura ha citato Pasolini e oggi le chiederei di raccontarci quello che ieri poi non abbiamo fatto in tempo a raccontare di quell'incontro con Pasolini e di quella lezione di coraggio che diede a tutti voi giovani quel giorno ma è vero io penso che la nostra nella nostra vita siano così importanti le emozioni più molto più della nostra razionalità ed è tanto vero questo che almeno per me i momenti di cambiamento nella mia vita me li ricordo tutti ma non perché era martedì 18 ma perché era una giornata molto nebbiosa oppure quando è morto mio nonno era una casa molto fredda improvvisamente e improvvisamente vuota questa sensazione è ciò che rimane e ti fortifica ti costruisce ti ammalia ti fa crescere un vecchio modo di dire argentino dice tutto nella vita si scorda forché ciò che hai ballato non con chi questa cosa la ricordo molto bene perché l'ho trovata per certi versi come tutte le frasi che ti ruotano nella testa un po' incongruente perché dice anche poco rispettoso perché non mi ricordo con chi ho ballato perché c'è una cosa più importante che è quella emozione di quella musica di quella sera di quel sudore di quel desiderio bene tutta questa premessa perché era una notte non tempestosa ma era una notte piena di nebbia nella mia città molto provinciale era arrivato Pierpaolo Pasolini a presentare un suo film che era Teorema e dopo quella proiezione c'era stato un dibattito in un teatro più piccolo che era molto affollato Pasolini era molto molto noto all'epoca e molto molto discusso per la verità molto odiato e ricordo l'accanimento di tutto quel folto pubblico contro quell'uomo con accuse di qualsiasi genere di qualsiasi pesantezza e lui con veemenza ma anche con una certa circospezione rispondeva parola per parola ed era solo solo di fronte a tutti era come un uomo circondato da animali feroci tornai quella sera in quella nebbia ricordo era un tratto di strada non breve per fortuna e mi dissi che non avevo forse compreso quelle parole e forse non le se le avessi comprese non le avrei difese non erano per me non riuscivo a capire e condividere quel punto di vista però era emersa con chiarezza una lezione di vita abbi il coraggio di difendere le tue idee in qualsiasi situazione non cedere non chiedere il consenso il consenso non lo si chiede mai non lo si cerca mai se poi viene meglio molto meglio grande rock star nei miei tempi era seduto su questo sdraiato su questo divanetto di velluto viola lo ricordo molto bene e quando gli dicevano come sei diventato così un mito una leggenda e lui sorrideva sorrideva e poi disse never played for the audience never played for the audience non ho mai suonato per il pubblico fantastico meraviglioso coraggio delle proprie azioni io ho la mia musica ti piace mi fa piacere non ti piace dormirò lo stesso ma io continuerò su questa musica qua Bob Dylan sono 60 anni che suona quella musica lì gli potete chiedere qualche cosa per vendere qualche copia in più non siamo sempre in vendita lo capiscono certi padroni del vapore non tutta l'umanità ha un prezzo c'è anche qualcuno che si rivolta contro e lotta per se stesso per le proprie idee e per le idee degli altri questo libro inizia con questa idea della libertà e cito un verso di Bukowski che dice le anime libere sono rare ma quando vi avvicinate ad una di esse la riconoscete subito perché vi farà bene l'idea della libertà come cura della nostra anima cercate persone libere se noi non lo siamo se non lo siamo così più come avremmo dovuto cerchiamo qualcuno di libero ci farà del bene ci insegnerà un'altra strada che dovremmo percorrere con passione e coraggio questo mi hanno insegnato i miei genitori i miei maestri le persone che io ho avuto non la fortuna sarebbe un'offesa per me la co-ciutadine di cercare io ho sempre cercato i Don Chisciotte e ho sempre voluto fare il Sancio Pancia adesso tocca a me fare il Don Chisciotte grazie a Paolo Crepe buona serata a tutti grazie libero evento per averlo portato qui a Iglesias e a Calasetta grazie no grazie a voi grazie a voi spero che vi siate divertiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.